Il VIM è un centro di eccellenza scientifica a Padova, il luogo dove la ricerca incontra la medicina, il luogo dove nasce la cura. 150 ricercatori provenienti da ogni parte del mondo lavorano per studiare e sconfiggere cancro, diabete, malattie cardiovascolari e muscolari, malattie genetiche e autoimmuni. Antonella Viola, immunologa, fa parte del progetto europeo Merlin che sviluppa nuove terapie con staminali adulte per le malattie del fegato. Francesco Piazza, ematologo-oncologo, è impegnato a chiarire le cause di leucemie, linfomi, mieloma multiplo e per trovare nuove e più efficaci cure. Gino Gerosa, cardiochirurgo, è impegnato nella realizzazione di nuove, efficienti e vitali terapie per l'insufficienza cardiaca, l'infarto miocardico e le malattie valvolari. Marco Sandri, miologo, cerca nuove terapie farmacologiche, nutrizionali e genetiche per combattere la perdita di forza muscolare e migliorare la qualità della vita durante l'invecchiamento. Nicola Elvassore, bioingegnere, applica la microingegneria alle cellule staminali di pazienti per sviluppare una medicina personalizzata. Questi sono solo alcuni dei 14 gruppi di ricerca del VIM. Negli scorsi anni abbiamo ottenuto dei risultati importantissimi che ci hanno consentito di diventare un centro di ricerca del riferimento internazionale, ma anche di fornire delle nuove terapie per delle malattie molto difficili da curare. In questi anni il VIM ha rappresentato un incubatore di giovani talenti che hanno oggi ruoli importanti nelle università di diversi paesi, ma anche un centro di attrazione per ricercatori stranieri e per i brillanti giovani italiani formati all'estero. VIM, dove nasce la cura, dove nasce il... FUTURO FUTURO PAUISSE FUTURE MELLON MIRAI FUTURO FUTURE ZUKUNFT FUTUR FUTURE FUTURE Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.